Lo spareggio per conquistare il ruolo di antifidelissandria se lo aggiudica il Potenza, ai danni di un Biceglie avviluppatosi in una minicrisi di risultati dopo aver conservato l'imbattibilità per 16 giornate. Nelle ultime tre la squadra di De Luca raccoglie la miseria di un punto, subendo non solo un paio di sconfitte che l'allontanano dalla vetta, ma anche otto reti al passivo che sono un bilancio preoccupante rispetto all'orolino di tutto il girone d'andata. La fase di studio dura una decina di minuti, perché al primo vero tentativo il Potenza passa con la conclusione di Viola, sulla quale Licastro non sembra esente da colpe. Padroni di casa che provano a sfruttare il momento cercando il raddoppio con Vaccaro, mentre il Biceglie abbozza una reazione con la conclusione di Logrieco che termina a lato. Il raddoppio del Potenza è frutto di un'azione corale conclusa da Palumbo e potrebbe tagliare definitivamente le gambe alla squadra di De Luca. Invece il Biceglie ha il merito di non disunirsi, costruendo prima un'occasione pericolosa sulla quale Patania anticipa la carra e poi trovando il gol che di mezzo alle distanze riapre la gara con il colpo di testa in controtempo proprio di la carra. Prima del riposo però è ancora il Potenza ad avere una ghiotta occasione per triplicare con Licastro che si dimostra reattivo sulla conclusione di disenso deviata da Riccio. Ripresa meno intensa con il Biceglie che al di là del possesso palla al tiro ci va poche volte, nell'occasione Marseglia ad impegnare il portiere di casa. Il Potenza si affida alle ripartenze con le quali sfiora il terzo gol con Carassio, il cui diagonale trova la risposta di Licastro e il gol definitivo del 3-1 ancora con Palumbo, incredulo del regalo della difesa nerazzurra. Il Potenza prosegue la sua rincorsa alla fide di Sandria, il Biceglie per il momento la corsa alla vetta la potrà guardare da spettatore non pagante.